Guarda, adesso è il primo appuntamento con il Varchimomics, che ci porterà a marzo, alla prossima edizione, il 19 e il 1 marzo del 2022. Diciamo che abbiamo coinvolto più artisti rispetto anche al passato e, come sempre, noi promuoviamo sia il Fumento dell'Alto 22, quello del promuovere molte parti, anche al di fuori dei limiti regionali. Però vorrei, ecco, far parlare una delle nostre giovani artiste che ha, per voi, terminamente, alla realizzazione, è Jasmine. Quindi... Allora, se io ho contribuito a la realizzazione di due disegni, cioè due disegni, e secondo me è stato un progetto molto interessante, perché ha permesso a vari artisti, insomma, di potersi misurare anche creativamente con un tema ampio, però che fosse comunque strutturato, però che fosse la finalità del calendario. Di conseguenza ha permesso di creare un progetto veramente vario, attraverso, semplicemente, la creatività delle persone che vogliono. E soprattutto, continuando, insomma, questo progetto può sicuramente diventare anche un outfit creativo per vari artisti della zona, come noi, che possa permettere, insomma, di creare, appunto, e dimostrare anche le varie prospettive, diverse, degli artisti del Valdarbo. Grazie.